Ok, puoi portarlo giù? Allora, come se ne è santo? Devi prendere un angolo, sapetevi... Quello adesso... Sì, aspetta che... Siamo qua dalla destra... No, adesso già... Ok, sì, va avanti, va avanti Ok, ora quindi prendi l'aprio di nuovo nel buco e ripartalo di nuovo... come così Ok, premilo a nuovo e ora devi prendere i due estremi perché ci sono, dovresti li sentire le due mani più violine esterne Sì, sì, ok Ok Ah, qui la una sotto è venuta una bellissima vaga Sì, va bene Sì, va bene Sì, va bene Esatto